La seduta è ripresa, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione al disegno di legge numero 3012A. Legge annuale per il mercato e la concorrenza e delle abbinate proposte di legge numero 2437, 2469, 2684, 2708, 2733, 3025 e 3060. Ricordo che nella seduta di ieri è stato da ultimo respinto l'articolo aggiuntivo paglia 7.06. Ricordo inoltre che è stato accantonato l'articolo 6 bis con gli emendamenti ad esso riferiti. Avverto che le commissioni hanno presentato l'emendamento 18.600 che è in distribuzione, con riferimento al quale risulta alla Presidenza che i rappresentanti dei gruppi abbiano rinunciato al termine per la presentazione di subemendamenti. Avverto che fuori dalla seduta sono stati ritirati dal presentatore agli emendamenti sott'anelli 8.24, 9.10, 9.11, 9.401, 11.4, 13.2, 13.4, 15.402. Chiedo alla relatrice Fregolent se intende riprendere l'esame del provvedimento dall'articolo 8, ovvero dall'articolo 6 bis in precedenza accantonato. Mi dica lei. Presidente, io continuerei con i pareti dall'8 fino al 14 e poi alla fine riprendiamo il 6 bis. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 8 sono tutti contrari e anche gli aggiuntivi sono tutti contrari. Bene, la ringrazio. Adesso chiedo al deputato all'Asia, redattore di minoranza. Grazie Presidente. L'emendamento all'articolo 8, l'8.1 contrario, 8.2 favorevole, 8.3 identico, 8.4 contrario, 8.5 favorevole, 8.6 identico.